Buonasera a tutti. Il tema della potenza dell'immagine, che cercheremo di concludere commentando, se mai ciò è possibile, l'opera che ho alle spalle e che voi avete di fronte, questo tema della potenza dell'immagine non nasce, anche se molti critici ritengono che così sia, non nasce nell'umanesimo, nel rinascimento. È già un tema medievale. Nessuno, neppure nella cultura medievale, parlo di teologi o filosofi, si è mai sognato di affermare che l'immagine è una semplice rappresentazione o illustrazione di certi eventi, di certi momenti teologicamente pregnanti della nostra tradizione. Neanche per San Tommaso è fondamentale il tema della potenza dell'immagine, se non altro al fine di imprimere nella nostra memoria una qualche dottrina. L'immagine è, se non altro, potente per questo, perché attraverso l'immagine noi ricordiamo con molta più forza che non attraverso la parola scritta o il suono. Questo è un tema universale nella tradizione filosofica europea a partire dal Medioevo e trascorrere dal Medioevo, Lullo e tanti altri fino al pieno rinascimento, fino a Giordano Bruno. Cioè la coscienza che l'immagine è sempre più potente della parola, almeno nel suscitare emozioni e nel permetterci di ricordare. L'immagine non è mai muta, l'immagine parla sempre e parole e immagini si connettono, si connettono assai più di quanto di solito si pensi. Vi è una sorta di pregiudizio che nella nostra cultura sia prevalente la parola o la parola scritta rispetto all'immagine. Non è così, non è così propriamente neanche nell'epoca medievale. Basti ricordare, e lo ricordano spesso i critici, un passo di Dante, del Purgatorio di Dante, il decimo canto del Purgatorio. Siamo nella prima cornice del Purgatorio, quella dedicata ai superbi. Qui la costa, la costa del Purgatorio, sinerpica e, dice Dante, di marmo candido e addorno di intagli, sì che non pur policleto, ma la natura lì avrebbe scorno. Cioè in questa cornice, in questa prima cornice del Purgatorio, questa cornice è scolpita, scolpita ad arte, da un'arte così sublime che neanche policleto, ma la natura, la creatività per così dire della natura avrebbe scorno. Ed è naturale che sia così, perché questa scultura è fatta da Dio. Dio scolpisce, è una scultura letteralmente divina. La divina intelligenza l'ha scolpita. E ha scolpito che cosa? In contrapposizione alla superbia, che lì viene purgata, e immagini di umiltà. E la prima immagine di umiltà è l'annunciazione. una annunciazione. Poi l'altra è il trasporto dell'arca e infine la misericordia di Traiano. Stupendo, no? Perché sono tre immagini di umiltà, una Antico Testamento, una Nuovo Testamento e l'altra Dante, l'impero romano. Insieme l'umiltà di Traiano scolpita da Dio. scolpita da Dio. L'alta gloria del principe romano, che nel purgatorio è glorificato, scolpito da Dio. Scolpito. E probabilmente sono ricordi di immagine reale. Alcuni studiosi hanno individuato precisi riscontri. L'annunciazione, probabilmente quando parlava dell'annunciazione, sono versi bellissimi, ma Dante aveva negli occhi l'annunciazione di Giovanni Pisano per il pulpito di Pisa. E forse aveva negli occhi la colonna traiana, per quanto riguarda l'immagine dell'umiltà dell'imperatore che è caritatevole nei confronti della povera vedova. E dice Dante, non sembrava immagine che tace. Parla l'immagine, l'immagine parla, ascolta l'udito. A Dante sembra di sentire l'ave. E sembra di, di fronte alla scena di Traiano, pareva dire, signor fammi giustizia, la vedovella. Parea dir. Ma non solo. Di fronte a quell'immagine il naso di Dante, il naso di Dante avverte il profumo degli incensi nel trasporto dell'arca. Cioè dice, ascolta, annusa, sente tutto, no? Un'opera d'arte totale è quella del Signore, no? Un Gesamtkunstwerk, quasi, no? È questa scultura divina. Ma per dire come l'immagine per Dante, la vera, la grande immagine, un'immagine veramente divina, l'immagine del grande artista, parli. E non solo parli, e non solo sia parola, ma ci metta in agitazione tutti i sensi, tutti i sensi. Ci sembra di sentire l'odore dell'incenso. L'immagine verace afferra mente, occhi, tatto, udito, naso. Ecco, l'arte perfetta. Un'arte perfetta dovrebbe suscitare questa emozione, no? Coglierci nella nostra interezza intellettuale e sensibile. Quindi vedete, già nel Medioevo appunto questa potenza dell'immagine viene pienamente riconosciuta dai sommi geni di questo periodo. E nell'umanesimo questa tradizione continua. Non è che l'umanesimo, la grande pittura, la grande scultura dell'umanesimo inventi questo tema, come molti ancora ritengono del tutto falsamente. E la trattazione forse conclusiva, qui bisognerebbe fare ovviamente una storia molto dettagliata e vedere tutte le differenze tra autore e autore, ma per giungere a quella che in qualche modo è la sintesi dell'idea di immagine agente, cioè di immagine che mette in moto tutta la nostra sensibilità e tutto il nostro intelletto. Possiamo arrivare a Ficino, a Marsiglio Ficino, che molti trattano queste correnti neoplatoniche come invece quelle che sostengono un assoluto primato della parola e della parola soprattutto teologica e filosofica. Non è vero. Ficino, che non a caso è amico dei Botticelli, eccetera, è invece non solo riconosce la potenza dell'immagine per i motivi che ho detto all'inizio, come potenza rammemorativa e come potenza che suscita emozione e quindi induce, suscitando emozione, simposio di Platone, il bello sensibile induce attraverso l'emozione che produce anche a ci educa, ci trae su verso la contemplazione del bello e del bene. Non è soltanto questo motivo platonico, è molto di più. Marsiglio Ficino, soprattutto in un'opera fondamentale conclusiva in qualche modo della cultura fiorentina, diciamo, della Firenze di Lorenzo, ecco, il De Vita, il De Triplici Vita del 1489, afferma, è tutto basato, questo trattato di Ficino, è tutto basato sull'idea che l'immagine, quando sia ben costruita, quando sia un artefatto, niente di ripresentativo, di imitativo, quando sia un artefatto, la virtus imaginum, la potenza, la virtù delle immagini è tale da poter comparare, mettere in armonia la nostra vita terrena con il cielo, De Vita Celitus Comparanda, questo è il sottotitolo del De Vita Ficiniano, De Vita Celitus Comparanda, come si possa paragonare, comparare, avvicinare la nostra vita terrena alla vita celeste. In che senso? Ritmi, astri, il movimento degli astri, la perfezione di quella vita, immagini che colgano questo, immagini che siano costruite esattamente come sono costruite, analogamente, diciamo meglio, a come sono costruiti i movimenti del cielo. I movimenti del cielo hanno musica, hanno ritmo, hanno armonie e nell'arte io debbo imitare questo, debbo imitare. In questo consiste la vera, essenziale imitazione, non nell'imitazione di figure terrene, terrestre semplicemente, ma nell'imitazione di figure terrestri, terrene, di figure, come le vedete in tutte le opere di quel periodo, ma armonizzate, musicalmente costruite. Ecco la filosofia della prospettiva dove sta. Altro che semplice geometria e giochetti geometrici. È geometria platonica, è la geometria del Timeo. L'immagine artefatta, fatta secondo questi principi, ci risana, ha un valore anche medico. Infatti molta parte del De Vita è dedicata proprio a una medicina di questo genere, perché l'immagine ben costruita, costruita come ho detto, ha un valore risanante per la nostra anima, ma non solo per la nostra anima, ma anche per il nostro corpo, perché educa armonicamente la nostra sensibilità. Potenza dell'immagine, potenza anche medica dell'immagine, risanatrice dell'immagine. Quindi Marsiglio, come Dante, ma più di Dante ancora, sa che l'immagine suscita emozione di cui la parola è incapace. Quest'immagine così costruita diventa per Ficino, nel De Vita, un talismano. Noi ci teniamo l'immagine, anche così, sapete, facevano collezioni di immagini. Era un'immagine all'interno delle loro palazzi, delle loro ville, che avevano anche questo significato di talismani, che avevano questa virtù. Guardando la primavera, guardando la cosiddetta primavera, la nascita di Venere, tante immagini, avevano questa virtù, avevano per coloro che li possedevano queste immagini, li potevano contemplare, avevano questa virtù armonizzatrice. Armonizzavano le mie facoltà e armonizzavano l'insieme delle mie facoltà sensibili intellettuali al movimento cosmico. Le inserivano in un movimento cosmico. L'opera del Quattrocento in cui questa idea dell'immagine talismano è potentissima ed è tutto un programma, è a Palazzo Schifanoia nella Sala dei Mesi. Lì è evidentissimo. Il De Vita Celitus Comparanda, nella fascia in cui si svolgono tutte le attività terrene, la fascia mediana dei decani e la fascia degli dei olimpici. De Vita Celitus Comparanda. Questa armonia avveniva attraverso la fascia mediana, pericolosa sempre, perché nella fascia mediana è la fascia dei demoni e la fascia dei demoni può essere sia buona che cattiva ed è una fascia pericolosa questo percorso. E allora per questo l'immagine deve essere perfetta, perché soltanto l'immagine perfetta ti permette di salire con meno pericoli possibili verso la contemplazione degli dei astrali, degli dei olimpici, come sono raffigurati a Palazzo Schifanoia. Naturalmente, e qui vediamo al grande protagonista di questa vicenda della potenza dell'immagine, non poteva essere tenuta questo incontro se non qui, perché l'apice, il culmine assolutamente insuperabile nella nostra cultura, nella nostra civiltà, di quest'idea, che pure la pervade tutta, ripeto, della potenza dell'immagine, immagine agente, immagine che agisce, che fa, che produce, che crea, non che imita, o che imita nel senso che ho detto, è Leonardo. Leonardo certamente non possiamo collocarlo nel solco neoplatonico ficiniano, nemmeno metterlo in contrapposizione come fanno alcuni, ma certamente Leonardo appartiene ad un altro filone del rinascimento. Quello che ha come massimi nomi l'Alberti all'inizio e il Machiavelli alla fine. Tutta la vita di Ficino, come tutta la vita del circolo fiorentino, è tutta intenzionata a cercare di collegare queste visioni cosmologiche di origine sostanzialmente, diciamo pagana, classica, diciamo meglio, con il cristianesimo. In Leonardo questo problema non esiste, non sussiste. Leonardo è esattamente come Alberti, esattamente come Machiavelli, tamquam Christus non esset. Questo è, qual è il suo autore, l'autore di Leonardo? È Leon Battista Alberti. Pictura est scienzia. Pictura est scienzia. Qui c'è il salto rispetto a tutto il discorso che abbiamo fatto. La rivendicazione che la pittura è scienza. Certo, il grande precedente Piero della Francesca e il suo ambito, il suo circolo, ma questo tema in Leonardo assume è proprio tutta una valenza, direi, proprio, propriamente filosofica, pienamente filosofica. Chi diceva scienzia? Pictura est scienzia. Prima di tutto Vitruvio. Architettura est scienzia. Il de'architettura di Vitruvio. Che Leonardo cerca affannosamente il testo di Vitruvio. Leon Battista Alberti. Il de'pictura. Pictura est scienzia. Nasce da lì. Pictura est scienzia. Per dirla, come diceva Vitruvio a proposito dell'architettura, una scienza che deve armarsi di molte discipline. Brunelleschi, Alberti. Niente più dilettanti. Niente più pressapoco. Niente più esperienza. Mi hanno detto così, mi hanno insegnato, mi hanno trasmesso. Scienza. Scienza l'architettura. Scienza la pittura. E qui veramente è la novità che viene introdotta da Leonardo, che viene esplicitata da Leonardo, ma che già maturava in questo filone dell'umanesimo. Alberti, Valla, Machiavelli. Il filone scientifico, scientifico tragico, diciamo così. Che non è in opposizione netta, così astratta, con il filone neoplatonico, ma certo sì in contrapposizione. In Leonardo la pittura vale come filosofia. La pittura è un'operazione che richiede tutte le conoscenze, tutte le tecniche, geometria, dinamica, geologia e, vedremo, psicologia. La parola è il minore dei mezzi di cui io dispongo per comunicare queste, diciamo, questa realtà, realtà. La realtà. La pittura, la parola è il mezzo minore che io ho di rappresentare il reale. La descrizione esatta del mondo è un metodo pittorico per giungere anche a effettuale potere sul mondo. Perché il sapere, è qui tutto allo sperimentare di Leonardo, il sapere deve essere messo alla prova, sperimentato, sperimentato, obstinato rigore e furiosa attività, dice Leonardo. Il sapere di cui dispongo deve essere messo alla prova, ostinato rigore e furiosa attività, inesausta attività, inesausta. Esattamente con le stesse parole di certi passi di Leon Battista Alberti, di cui Leonardo davvero in queste espressioni è un alter ego. Per operare, diceva il grosso modo Leon Battista, per operare occorre l'energia della mente quanto quella del corpo stesso. Il corpo è cosa divina, ricorda Leonardo in ogni istante, esattamente come Leon Battista. E Valéry, il grande Valéry, il poeta Valéry, che forse è il solo che filosoficamente nel Novecento abbia capito Leonardo, filosoficamente. Poi ci sono meravigliosi filologi, ma dice, come essere veri filosofi si può, e commenta Leonardo, come essere veri filosofi è possibile senza mani e senza occhi? Come puoi essere vero filosofo senza mani e senza occhi? Come puoi rappresentare il reale senza mani e senza occhi? La pittura per Leonardo ha indiscutibilmente il primato. Il pensiero è sempre, dice lui, immaginato e dipinto meglio che parlato o scritto. La pittura è indagine, la pittura indaga, ispeziona, scopre. Soltanto la pittura sulla superficie della tela, della tavola, del muro, soltanto la pittura può rappresentare in uno i tempi della Terra, dice Leonardo in un passo molto importante e totalmente filosofico, i tempi della Terra e l'invisibile stesso. La pittura è capace di rappresentare l'invisibile. Che cosa? Ma la nebbia, l'aereo, l'eter, le ombre. E qui si ritorna davvero anche il depittura dell'Alberti. La pittura sola è in grado di rappresentare tutte le bellezze della natura, dove il termine ovviamente bellezza non ha alcun significato sentimentale, estetizzante, eccetera, eccetera. Sono le forme che vagliano la virtus della physis. Tutte le bellezze della natura, ma di più ancora anche ciò che l'occhio, l'occhio normalmente non vede, non coglie quotidianamente, o non può cogliere. La pittura è in grado anche di far questo. La pittura è in grado di rappresentare la nebbia, l'aria, l'ombra, l'inafferrabile. Solo lui, solo la pittura, solo il pittore è in grado di questo. Dice Leonardo, il poeta consumerebbe tutte le sue penne, la sua lingua sarebbe impedita dalla sete, il suo corpo dal sonno e dalla fame, prima di riuscire a descrivere come può il pittore. La rivendicazione quasi superba del primato della pittura. Questo è tipicamente di Leonardo. Non soltanto l'architettura est-scienzia, che deriva da questa tradizione brunelleschiana, albertiana, poi rafforzata dalla lettura e dalla scoperta del vitruglio, ma questa rivendicazione di un primato, di un vero primato della pittura. E potremmo continuare, l'immagine non ha soltanto questo potere straordinario, è anche per Leonardo dotata, l'arte dell'immagine, l'immagine agente, è anche dotata di capacità visionarie, visionarie. All'altezza almeno delle capacità visionarie di un poeta come Dante. Voi sapete che Leonardo ha Dante come il poeta. Il poeta è Dante. E lo si capisce bene. Perché? Perché la pittura di Leonardo ha anche capacità visionarie. E dov'è che lo vediamo? Ma lo vediamo nei diluvi. La straordinaria serie dei diluvi, delle apocalisse, delle catastrofi. Catastrofi turbini, inondazioni. Visioni, visioni di un escaton, di un fine, di un ultimo. Quasi di un giorno del giudizio. L'occhio del pittore è a occhio anche per l'ultimo. Noi non abbiamo l'occhio per l'ultimo. Abbiamo soltanto l'occhio per il prossimo. La grande pittura è visione dell'ultimo. L'immagine agisce provocandoci o oltre ogni confine fisico verso una trascendenza che non ha alcun significato religioso. È l'infinità della fisica, è l'infinità della natura. Non è una trascendenza religiosa. È il mio occhio che si trascende sempre, che va sempre oltre ogni confine che incontra. È il mio occhio che trascende sempre l'osservabile. È l'occhio dello scienziato anche che trascende sempre l'osservabile. che ha visioni sempre, che tende sempre ad avere visioni dell'ultimo. È l'occhio del filosofo, è l'occhio dello scienziato, è l'occhio per Leonardo del pittore, di questo pittore, di questo pittore. Dice Leonardo La natura cela, cela, abissi. La natura cela, abissi. Ma l'occhio del pittore riesce a spingersi nell'abisso. Nell'abisso. Si agita fino, pensa e si agita, Cogitare, coagitare, pensa e si agita fino a questo limite, il limite. Natura infinita. E qui davvero è il grande precursore della filosofia del Rinascimento. Ma di uno in particolare, di Giordano Bruno. Io non riesco a vedere Leonardo, se non passando immediatamente a Giordano Bruno e viceversa. La natura cela, abissi. La natura non è mai la natura naturata, queste cose e questo insieme di cose. La natura è ciò che genera queste cose. Ma che cos'è questo ciò? Ciò che genera queste cose. Fisis, natura naturans. Leonardo, Bruno, Spinoza. E c'è poco da fare. Chi non sa di filosofia queste cose non le può capire. Mi dispiace, è un po' di superbia di mestiere. Naturalmente c'è anche una tragicità in tutto questo. Perché appunto, non essendoci alcuna trascendenza di tipo religioso salvifico, quest'occhio che si spinge sempre oltre, è sempre l'occhio mio, è sempre un occhio mortale. E quindi vede che cosa? Vede sì che la natura si rigenera sempre, ma vede anche che tutto ciò che è anche perisce e muore. Il tempo, dice Leonardo, nulla risparmia. O tempo, vincitore veloce, predatore delle cose create. Guardate, quanti popoli hai tu disfatto e quante mutazioni di stati e varie cose, casi si sono seguiti. O tempo, predatore delle create cose. Certo, perché l'occhio si trascende sempre, ma non si trascende mai in una trascendenza che salva. E quindi, questo occhio che penetra la natura, che entra nella caverna, quel passo meraviglioso di Leonardo, dove si deve tentare di entrare nella caverna, devi tentare di procedere nell'abisso, procedere nell'abisso. Ma questo abisso non ha fondo, non ha fondo infinito, è dietro l'infinito. Dietro cosa vedi? Non c'è fondo, c'è che cosa? Ci sono le immagini delle trasformazioni continue della natura. Catastrofi, generazioni, rigenerazioni, ma anche tempo predatore delle cose create. E infine, il pittore. Oltre a tutto ciò, dovrà essere anche psicologo, nel senso etimologico del termine. Dovrà anche sapere, avere il suo, deve essere un pensiero e un discorso che riguarda la nostra psiché, la nostra anima, come noi funzioniamo. al pittore spetta rappresentare anche questo, e sarà la rappresentazione, il problema più difficile della sua rappresentazione, e cioè quale? Come il moto materiale, il movimento dei corpi, corpo, cosa divina, il movimento dei corpi, e l'esserci è movimento, come dicevano anche i classici, come diceva Aristotele, la caratteristica del corpo vivente è l'essere in movimento, kinesis, movimento. Ebbene, la cosa più difficile sarà rappresentare che cosa? Come il movimento dei corpi nasca dallo spirituale. Questo è misterioso, come il movimento dei corpi possa nascere dallo spirito. L'origine, cioè non meccanica, del movimento dei nostri corpi, del nostro movimento, perché questo problema riguarda noi, il nostro movimento. Com'è possibile che noi possiamo muoverci per ragioni spirituali? Qual è questa potenza motrice inseparabile dal motore? Sia chiaro. Anche qui nessuna dimensione propriamente religiosa, dogmatica, eccetera, eccetera. Inseparabile. La potenza motrice inseparabile dal motore. Non ci può essere psichè senza corpo. Non esiste. La nostra anima muore col corpo. Tuttavia, com'è che avviene che la nostra anima, chiamiamola così, psichè, il termine greco, possa produrre movimenti materiali, corporei? Com'è possibile questo? al pittore spetta manifestare questo portento, questo miracolo della natura. Spetta al pittore rappresentarlo. E nessuno, anche qui, lo può rappresentare meglio del pittore, lo può esprimere meglio del pittore. Cioè, nessuno meglio del pittore può esprimere come i diversi movimenti corpori manifestino diverse qualità della forza motrice, lo spirito. Cioè, diversi impulsi, diverse agitazioni della psiche. Il pittore deve saperli descrivere con esattezza. E allora l'immagine agirà davvero. Non si limita a descrivere, ma scopre l'immagine del pittore, scopre la relazione tra impulso spirituale e movimento corporeo. Il nostro corpo, cioè, per il pittore, grazie al pittore, vediamo come il nostro corpo nei suoi movimenti e in particolare il nostro volto e in particolare ancora di più il nostro occhio, l'occhio alato di Leon Battista Alberti. Come il nostro corpo nell'insieme dei suoi movimenti e delle sue dimensioni sia rivelatore, fedele, fedele dei movimenti dell'anima, ovvero delle forze motrici che costituiscono la nostra psiche. Quindi, nessun riduzionismo dello spirituale al corporeo, niente di tutto ciò, ma neanche nessuna trascendenza astratta dello spirituale rispetto al corporeo. Formano un'inscendibile unità, ma in queste unità il problema consiste nel modo in cui lo spirituale induce movimenti corporei. Naturalmente Leonardo non dà nessuna spiegazione scientifica di questo, diciamo, non è una psicologia scientifica contemporanea, ma afferma che il pittore è il pensiero, diciamo proprio, il pensiero pittorico è il più adeguato a rappresentare questa relazione indissolubile tra spirituale e corporeo. Scusate, prima di affrontare l'ultimo capitoletto di questa conversazione bevo un po' d'acqua. Vediamo come tutto ciò si verifichi in questo testo straordinario che, come dicevo all'inizio, è l'apice di questa idea mai abbastanza sottolineata da un punto di vista culturale, filosofico, generale della potenza dell'immagine e che ha Leonardo come massimo esponente e come ha capito molto bene Paul Valéry, questo grande poeta intellettuale del Novecento. Ecco, qui abbiamo l'exemplum per eccellenza del discorso che abbiamo appena fatto. moti dello spirito che si rappresentano e si spiegano e li comprendiamo e ci risultano spiegabili in movimenti corporei di corpi reali. Movimenti moti dello spirito che si esprimono in movimenti in agitazioni corporee. Qui l'impulso è uno ed è la parola. La parola. La parola catastrofizza una situazione. Si potrebbero fare paragoni che sarebbero a limite impietosi rispetto a questo di cenacoli di ultime cene precedenti a partire da quella dell'irlandaio a ogni santi poi le altre grandi fiorentine di Andrea del Castagno eccetera eccetera ma non c'è assolutamente paragone con questa con la complessità e soprattutto direi con la violenza con cui in questa chiamiamola icona si esprime questo problema fondamentale. Qui è la parola una parola che è stata appena pronunciata sconvolgendo una situazione una situazione precedente la parola è stata appena pronunciata ed è quella appunto che si vede dalle labbra ancora socchiuse l'appena pronunciata probabilmente il Signore l'ha appena pronunciata questa parola uno di voi mi consegnerà si traduce di solito tradirà ma è una traduzione non esatta la traduzione esatta è uno di voi mi consegnerà ha pronunciato questa parola e si accinge secondo la successione che c'è nei sinottici e si accinge a benedire il pane eccetera probabilmente questa è la successione anche nei sinottici ha pronunciato questa parola uno di voi mi consegnerà e tutto muta catastrofe nel senso letterale del termine un mutamento di stato questo è il significato esatto della parola catastrofe quella parola la parola del logos la parola del verbum questa parola fatale del verbum che annuncia le vicende successive cioè la passione la croce eccetera eccetera uno di voi mi consegnerà scatena movimenti diversi movimenti contrastanti che la pittura deve rappresentare unitariamente senza perdere l'individualità di nessuno di questi momenti la parola è l'energia motrice che dà vita a differenti riflessi che si riflette che si espande e si riflette in diverse modalità ma che devono essere insieme rappresentate insieme tenute e la pittura deve rappresentare questo e deve mostrare con la massima concretezza come appunto da un impulso iniziale in questo caso la parola il verbum il logos si diffonda si diffondano diverse idee diversi movimenti ognuno dei quali assolutamente assolutamente caratterizzato tutte le figure hanno un qualcosa in comune si interrogano questo è bellissimo si interrogano è la dimensione drammatica anche se leggete il testo evangelico tutte si interrogano si chiedono chi siamo sarò io nelle rappresentazioni usuali è chiarissimo già chi è il traditore qui anche in qualche modo è chiara la posizione di Giuda ma quando Giuda come in molte ultime cene viene messo dall'altra parte del tavolo come nel ghirlandaio allora è già chiaro che è già fuori è già fuori dei dodici e invece non lo è affatto fuori perché notate che in Matteo poi prima Gesù annuncia di essere tradito uno di voi mi tradirà e poi c'è l'Eucaristia chiamiamola così e all'Eucaristia partecipa anche Giuda la figura di Giuda è una delle cose più complesse come è noto di tutta la narrazione di tutta la narrazione evangelica e non a caso ci fu anche un vangelo di Giuda ma lasciamo stare qui qui è chiaro che qui è chiaro che tutti si interrogano sono io sono io nessuno sa chi è nessuno sa chi è nos interrogantes nos dubitantes è straordinaria la drammaticità da questo punto di vista della scena no? perché nessuno è sicuro nessuno è sicuro questo è caratteristico di Leonardo anche nella in una grande opera precedente nella 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 visita dei magi agli uffizi no? quella quella miriade di scene ogni opera di Leonardo di questo punto di vista è anche preparata da da molti schizzi che poi vengono ricomposti la visita di immagini degli uffizi è quasi un collage di fatti di eventi di scene questa drammaticità della rappresentazione caratteristica no? e qui abbiamo la parola che suscita tutti questi effetti ma che vengono rappresentati devono essere rappresentati con la massima unità quindi il ritmo il ritmo il ritmo la rima di questa composizione è chiaramente individuabile no? sono dodici movimenti dodici movimenti ognuno precisamente individuato suddivisi in quattro triadi ogni triade ha il suo carattere ma in ogni triade emerge anche l'individualità della figura la prima figura all'estrema sinistra vostra la destra però del Signore guardando Bartolomeo che scatta in piedi verso il centro e insieme contrapposta guardate questo gioco di contrapposizioni dall'altra parte dall'altra parte abbiamo quella figura seduta Simone che quasi sembra tranquillamente impegnato in una conversazione i tre alla destra del Signore all'estremo si rivolgono verso il centro movimento contrapposto nella triade dall'altra parte dove soltanto la mano la mano di uno la mano di Matteo indica il centro della scena e cioè indica ma cosa ha detto cosa ha detto cosa ha detto lui con chi ce l'aveva lui tu ne sai qualcosa tu Simone ne sai qualcosa e con Taddeo lì che si rivolgono tu hai capito hai capito cosa ha detto hai capito con chi ce l'aveva chi sono sono io con chi ce l'ha con me sono io che lo tradirò che lo consegnerò agli estremi due movimenti contrapposti intorno ecco effetti diversi movimenti corpori diversi a partire dallo stesso impulso dalla stessa forza motrice che si individualizza esattamente come la physis si individualizza ogni volta nella diversità degli essenti tutti gli essenti ogni essente è diverso dall'altro ma physis li esprime tutti la forza motrice di questa parola che sconquassa tutto che agita tutto nessuno sarà più in pace dopo questa parola no e queste sono le due agli opposti ma anche le altre la triade la triade della destra del Signore che è formata come sapete da Bortolomeo da Andrea e da Giacomo e da Giacomo minore si rivolge verso il centro no e quasi vedete la mano poi la mano di Andrea che si appoggia sulla spalla di Pietro cioè incalzano verso vedremo adesso perché verso Pietro verso il Signore perché chiedono secondo il racconto di Giovanni che non è seguito però da Leonardo non è seguito da Leonardo perché nel 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 Vangelo di Giovanni Pietro chiede a Giovanni che è seduto vicino al Signore chiede ma che cosa ha detto ma chiedigli chiedigli Giovanni chi è chiedigli chi è e Giovanni chiede al Signore quindi Giovanni nel racconto di 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 nel racconto di Giovanni nel racconto del Vangelo di Giovanni non è staccato dal Signore così perché gli chiede Signore chi è e il Signore risponde sarà colui a cui porgerò un boccone di pane dopo averlo intinto quindi vi è una vicinanza nel racconto del Vangelo di Giovanni tra Pietro Giovanni e Cristo qui invece è Gesù qui invece vedete la situazione è completamente diversa Giovanni viene con gli occhi bassi solo lui con gli occhi bassi come Gesù si china verso 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 Pietro si china dalla parte di Pietro Pietro invece è lì che anela sentire Giovanni chi ha detto l'hai sentito l'hai capito chi ha detto con chi ce l'aveva vedete la drammaticità del vecchio che chiede a Giovanni come nel Vangelo di Giovanni ma Giovanni chiede e Gesù risponde qui non è così Giovanni sa già la risposta perché Giovanni sta nel seno di Gesù in silmo nel seno di Gesù quindi Giovanni sa la risposta Giovanni giovane Giovanni che fa contrasto con la vecchiezza di Pietro contrasto con la vecchiezza di Pietro sa già la risposta non c'è bisogno di chiedere a Gesù Gesù e Giovanni formano una unità però un'unità nella distinzione perché Giovanni si piega delicatamente verso il vecchio verso Pietro e qui c'è tutto un mistero teologico anche di cui certamente Leonardo era ben consapevole perché tutta una serie di correnti non precisamente ortodosse l'avevano l'avevano educato a questa a questa coscienza dell'assoluta eccezionalità di Giovanni Giovanni è la chiesa avvenire è la chiesa di agape è la chiesa di amore Pietro è la chiesa dura Pietro che tradisce Gesù è la chiesa dura che deve resistere nel secolo la chiesa di Giovanni è chiesa avvenire è chiesa felice è chiesa che ha la risposta che sta nel seno di Gesù ma è chiesa ultima è chiesa avvenire non è la chiesa di Pietro che chiede che chiede anche lui sono io che lo consegno Pietro chiede tutti chiedono forché Giovanni tutti chiedono sono io solo Giovanni non chiede Giovanni è nel cuore di Gesù quindi non è il racconto di Giovanni vedete c'è qualcosa di più e di inquietante perché la figura di Giovanni è particolarmente esaltata nei confronti di Pietro il contrasto con Pietro è evidente Pietro che non sa chiede vecchio Pietro non sa chiede Giovanni sa e questo contrasto è evidentissimamente voluto nella rappresentazione è evidentissimamente voluto nella rappresentazione è una chiede di Giovanni quella che si spera e Giuda è dall'altra parte si ritrae movimento diverso rispetto agli altri si ritrae ma è dalla stessa parte è seduto vicino a Giovanni esattamente come probabilmente si può immaginare la disposizione della tavola anche nel racconto evangelico nei racconti evangelici e soprattutto in Giovanni è vicino siede lì è vicino a differenza di Pietro è il più vicino dopo Giovanni a Gesù e le altre triadi la triade alla sinistra formata da Tommaso da Giacomo Maggiore e da Filippo è quella che più intensamente si rivolge ma chi sono? sono io sono io Gesù vedete la figura in particolare del Filippo che si chiama sono io sono io è la triade che il cui movimento indica con più con più con più forza e con più drammaticità la questione che domina questa immagine agente e cioè quella saremo mica colpevoli tutti saremo mica colpevoli tutti qui tutti si sentono potenzialmente colpevoli fuorché Giovanni tutti sono colpevoli nessuno innocente qui nessuno è buono aveva detto lui il maestro no? il maestro è triste maestro agli occhi bassi ma nonostante questo tono malinconico dopo quella parola lui si prepara a benedire il pane e a darlo a tutti Ivi compreso Giuda Ivi compreso Giuda che nel Vangelo poi di Giovanni viene invitato ad andare con queste parole vai e quello che devi fare fallo presto quello che devi fare è la tua missione fare fallo presto movimenti diversi come vedete ma chiusi in una stessa scena chiusi in questa formidabile prospettiva un impulso una grande forza motrice un verbum proprio nel senso di Ergon una parola che è fare che è agire e che dà vita a questa moltiplicità di movimenti diversi tutti perfettamente individuati rappresentati con esattezza così come sulla scena del mondo diversi affetti diverse passioni agiscono sui mortali no? e agitano la stessa terra diluvi catastrofi inondazioni guerre guerre che per leonardo sono la la pazzia per eccellenza ma anche le pazzie sono del mondo la pazzia è la guerra la guerra è l'immagine della pazzia del mondo della follia del mondo e come qui nessun 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 discepolo è esente dal sospetto sono io il colpevole il traditore così nessuno nel mondo può essere esente può dichiararsi o pensarsi libero da questa follia nessuno è libero da questi affetti da queste passioni che possono produrre anche follie e questa molteplicità deve saper rappresentare il pittore il pittore è colui che rappresenta la molteplicità anche nei suoi aspetti tragici di questo mondo nel modo più esatto più preciso molteplicità di fenomeni e anime differenti opposti ma che il grande pittore sa rappresentare in armonia sa connettere connettere comporre come in perficino di vita celito scomparanda comporre metter insieme rappresentare armonicamente in modo composto passioni affetti anche tragedie armonia di opposti come di vita e di morte di creazione e di distruzione grazie silenzio silenzio grazie 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 a tutti grazie a tutti